Grazie. Dunque, siccome mi sembra chiaro che questo sia un paese in cui sono tutti più bravi a parlare che non ad agire, ho pensato di presentare un mio programma anch'io e per avere qualcuno in qualche modo legittimo in questo mio programma ho pensato a un personaggio molto autorevole, Francesco Fannofino.